buonasera a tutti niente in particolare volevo mostrarvi come ho realizzato questa staff che è in plastica per montare la telecamera su questo fucile passiamo adesso al fucile che usa abitualmente un umer con la slit e la staffa della seagal sub che è un prodotto è acquistabile su nei vari negozi di pesca subacqua eccetera è fissata con due viti è un dato e due dati a due bloccanti qui vediamo le due viti con i dadi e due eccole qua mentre sul 110 ho la stessa slitta naturalmente perché sono entrambi caiman sempre fissato con due viti e due contro dadi autobloccanti naturalmente spostabile la staffa da un fucile all'altro quindi perché sono compatibili tutti e due a riguardo al piccolo fucile volevo dire questa staffa è realizzabile anche in altri materiali in alluminio acciaio eccetera buonasera